La scuola è andato sui suoi figli, gli insegnanti sono i suoi figli, noi ci conosciamo da tre figli, da una paese, da due, 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 da fate così, siamo andati al campo sportivo a vedere una partita di fondo, io e Marco Signori ingenuamente battevamo le mani quando facevano un gol, caro del carità, non si può più perché è la squadra a porta, c'era uno con un coltello così, che è il diverso, e allora c'era, Marco Signori, ti ricordi del coltello di quello con la matera che battevamo le mani alla squadra a porta, ti ricordi o no? è il 61 ma bene, è il 61 ma in grado ciò, non è vero adesso, ancora per finire, un'altra, un'altra